Don Giuseppe Tommaselli, sacerdote, esorcista e mistico, grandissimo uomo di Dio, ci ha lasciato tante perle di saggezza, tante perle per la nostra salvezza. Mi limito a riportare attraverso il canale Telegram, appunto dedicato a lui, alcune delle sue piccole storie. Grazie. Onoriamo gli angeli, ascoltiamone la voce, invochiamoli spesso, viviamo degnamente alla loro presenza. Se siamo i loro amici durante il pellegrinaggio di questa vita, saremo un giorno nell'eternità. I loro fedeli compagni, uniremo per sempre le nostre lodi a quelli degli angeli e in un abisso di felicità ripeteremo, Santo, 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 è il Signore Dio dell'universo. E' lodevole settimanalmente, in un giorno fisso, comunicarsi in un'ora del proprio angelo custode, oppure compiere qualche altro atto di ossequio. Dal libro di Don Giuseppe Tommaselli, Gli Angeli Grazie. Grazie.